Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sono state adottate nel comune di Roccadaspide a causa dell'aumento dei contagi in contrada fonte. Gli attuali positivi attivi sono saliti vertiginosamente a 31 salvo ulteriori aggiornamenti che dovessero intervenire nelle prossime ore. Questo fa sapere il sindaco Gabriele Iuliano. Sospensione dunque delle attività di didattiche in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia e della scuola primaria del plesso scolastico di fonte di Roccadaspide dal giorno 7 aprile 2021 al giorno 21 aprile 2021 considerata l'impennata di casi registrata nella predetta contrada e viste le disposizioni del governo e del ministero della salute che hanno previsto la ripresa delle attività didattiche in presenza sull'intero territorio nazionale affardata dal 7 aprile relativamente allo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado a scopo precauzionale e cautelativo onde scongiurare rischi di estensione del contagio è stata firmata un'ordinanza sindacale di sospensione delle attività didattiche in presenza limitatamente al plesso scolastico della contrada fonte questi sono purtroppo i numeri che siamo costretti a documentare continua il sindaco e mi pare che possano essere ben compresi da tutti così come mi pare altrettanto evidente che vi sia poco altro da aggiungere rispetto agli inviti alla prudenza all'attenzione e al rispetto delle regole di comportamento che la zona rossa in cui stiamo relegati da ormai diverso tempo ci impone di osservare